Nessun passo indietro, il presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Sergio Antonio Robustella, in una lettera indirizzata agli avvocati, conferma le proprie dimissioni dall'incarico. Andrò fino in fondo le parole dell'ormai ex guida del Palazzo di Giustizia dell'Agro Nocerino Sarnese, che ha sbattuto la porta con un gesto eclatante per denunciare le troppe carenze degli uffici giudiziari, tra personale insufficiente e tempi lunghissimi per i procedimenti. Ed anche il procuratore capo del Tribunale di Nocera, Antonio Centore, non usa giri di parole. Nocera ha un organico sottodimensionato sotto tutti i profili. Le clamorose e inattese, inaspettate dimissioni del presidente Robustella sono l'ultimo atto di questo cupio di solvi. Sembra quasi che, come ha detto anche il presidente, l'obiettivo sia quello di sopprimere questo Tribunale. La guida dei PM Nocerini contesta la totale assenza di risposte da parte del mondo politico e istituzionale alle richieste di intervento che in questi anni si sono sollevate dal Tribunale di Nocera. C'è stata, secondo me, nonostante le numerose interpellanze parlamentari, molte delle quali anche propiziate dal sottoscritto, dallo stesso presidente Robustella, riunioni, convegni, ne abbiamo fatto uno proprio sul tema specifico. Però evidentemente nessuno ha dato ascolto.